Sopravvivenza è il contrario di quello che fai vedere tu nei video, mi consola non essere il solo a notare sciocchezze e ipocrisie Wow, risposta mia, la domanda che ti faccio è sempre la stessa Se pensi così male di me, perché continui a guardare i miei video, a leggere quello che scrivo e a commentare? In altre parole, chi te lo fa fare di sprecare il tuo prezioso tempo apprezzo a una persona che non lo merita? Mi sorge il dubbio che tu non abbia niente di meglio da fare nella vita Se così fosse, ti auguro di trovare al più presto dei passatempi soddisfacenti Meno male che avevi detto commentate pure dicendo quello che pensate e non risparmiate le critiche In realtà non avevo detto così, avevo detto non abbiate paura di rispondere Anche se pensate di non essere ferrati in materia, che è una cosa leggermente diversa Ma vabbè, andiamo avanti Vedi, seguo e commento video e personaggi come te perché mi auguro che al netto dei fanboy vi sia qualcuno che possa prendere spunto dalle mie analisi E magari apra gli occhi Amo e svolgo da troppo tempo questa attività per non sgamare sia i video fasulli che i personaggi Eccolo un altro che fa cose da un botto di tempo Quali saranno queste analisi da cui vuole che voi prendiate spunto Ammesso che non siate dei fanboy Andiamone a leggere qualcuna, vediamo Fino a sei mesi fa facevi le uscite con le accette da boscaiolo che devono abbattere se vuoi e ora vai con l'ultralight Sempre coerente Della serie va dove ti portano gli spiccioli perché alla fine di questo si tratta Di spiccioli Però Che analisi Leggiamo un'altra Ormai siamo alla replica della replica del riassunto dei video già fatti Video come questo sono proprio rarissimi su questo come su altri canali Non conviene prendere atto, io l'ho fatto, che la vena creativa è finita Raga, io so bene di non essere il migliore nel mio campo e vi giuro che pagherei oro per confrontarmi con gente veramente preparata Ci metterei la firma col sangue, io sono qui Ditemi che cosa devo fare, istruitemi E invece no, ce ne fosse uno di questi sedicenti esperti Che mi insegna qualcosa Che argomenta, che scrive un discorso di senso compiuto Niente, solo cattiva ria gratuita E questo è molto triste Ho già fatto video in cui rispondo a commenti di questo tipo Oggi vorrei affrontare la questione da un'angolazione leggermente diversa Voi come al solito, se vi va, seguitemi e fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti Vorrei esporre un concetto secondo me molto importante Ma che a quanto pare l'autore di questi commenti E tanti altri come lui Ancora non hanno afferrato Se un personaggio dei social non vi piace Perché pensate che i suoi contenuti non siano belli Perché ritenete che sia un incompetente Perché fa le marchette Perché è un venduto E via discorrendo La cosa più intelligente che possiate fare L'unica cosa che dovete fare è ignorarlo Qualsiasi azione voi possiate compiere Diversa dal far finta che quel personaggio non esiste Peralizza voi e avvantaggia quel personaggio Dovete rivolgere la vostra attenzione altrove Punto e basta Se al contrario voi guardate i video Non importa se siete iscritti o meno Se voi commentate Qualunque cosa scriviate non fa differenza Se voi lasciate il dislike Se voi condividete i contenuti di quel personaggio Nelle vostre chat private Create apposta Per prendere per il culo gli youtuber Pensando di danneggiarli Se fate tutte queste cose Danneggiate solamente voi stessi Avantaggiando invece il personaggio che disprezzate Perché danneggiate voi stessi? Perché raga la vita è un mozzico Voi veramente volete buttare il vostro tempo Le vostre energie Commentando dei personaggi Che voi stessi ritenete Non meritevoli di attenzioni E perché? Perché dovete sgamare i fasulli Ah raga ma siete seri? Il vostro tempo dovete dedicarlo ai vostri cari Alle persone che amate A quelle che vi fanno sentire bene Dovete usarlo per migliorare voi stessi La qualità della vostra vita Per svolgere attività soddisfacenti Per imparare cose nuove Per visionare i contenuti che vi piacciono Invece di quelli che non vi piacciono Smettetela di pensare a quello che fa il resto del mondo E concentratevi solamente su voi stessi Perché altrimenti le cose non cambieranno mai Il malessere che provate non se ne andrà mai Perché facendo tutte quelle cose che vi ho detto prima E che vi ostinate a continuare a fare Date una mano al personaggio che disprezzate Avete mai sentito il detto Nel bene o nel male l'importante è che se ne parli? Ecco Potremmo tranquillamente chiudere il discorso con questa frase Le vostre interazioni con un personaggio del web Anche se negative Sono comunque interazioni Faccio l'esempio dei commenti I vostri commenti anche se sprezzanti Vanno ad aggiungersi a tutti gli altri Vanno a fare volume Più cresce il numero dei commenti Più YouTube pensa che quello sia un video che funziona Un video capace di attirare l'attenzione Di conseguenza cresce la probabilità che venga fatto girare Che venga messo tra i consigliati Che faccia più visualizzazioni Facendo crescere la popolarità e il seguito dello YouTuber Che ricordiamolo è quella persona che voi ritenete non meriti Popolarità e seguito Quindi se continuate a guardare Anche senza essere iscritti Perché pensate di fare un dispetto allo YouTuber Non iscrivendovi Se continuate a lasciare commenti negativi Se continuate ad alimentare le discussioni e le polemiche Attorno ai contenuti di quello YouTuber Sulle chat o sui gruppi Qualcuno potrebbe dire che siete degli hater Ma in realtà Di fatto siete dei sostenitori Io in realtà dovrei ringraziare Le persone che mi lasciano commenti Come quelli che vi ho letto poco fa Perché grazie a loro ho avuto E continuo ad avere La possibilità di realizzare Contenuti di qualità Contenuti che sono tra i più visti E tra i più apprezzati del mio canale Vi ricordate il video in cui rispondo al tagliare il mio esperto? Ecco quel video ha fatto il quadruplo Delle visualizzazioni rispetto alla media del mio canale E mi ha portato un sacco di commenti di apprezzamento E questo non perché Mi sia messo a inveire contro gli hater Ma perché in quel video mi sono sforzato Di mettere da parte la rabbia Che istintivamente uno prova Quando viene attaccato E ho cercato di rispondere a critiche stupide Con discorsi positivi Sensati Che potessero essere utili a tutti Come sto cercando di fare anche adesso E io sarò un illuso Ma spero veramente di convincere almeno qualcuno Se non tutti A smetterla con questi comportamenti Quindi raga la vita è dura E io capisco che alcuni di voi Possano avere delle frustrazioni Ma non è prendendola con gli altri Che uscirete da questa situazione Ne uscirete investendo su di voi E sulla vostra felicità Fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate Io auguro il meglio a tutti voi E ci vediamo in un prossimo video